La mia storia con guardia mio è troppo lunga, due giorni, ma invece sono brevissime. Io voglio vedere, andare a Roma, vedere soltanto le stigmate del Santo Padre. Ho andato, ho voluto vedere durante la Santa Messa. Ho ascoltato due messe, poi a presto io, ho celebrato questo mistero. Mistero come lui cedeva la Santa Messa, adesso non si può ripetere. Lui aveva visto la missione, la morte di Cristo con sé, ma ho voluto vedere, ma lui aveva fatto così. Lui è poi nel vecchio monastero, a segno Gesù, e invece lui è in contatto con il corridoio, padre e io. Ho avuto il padre e il figlio, ho avuto il genico rappresentato che sono dalla Polonia, eccetera, eccetera. Dico, padre io ho tre preghiere, quali? Tre preghiere per la sua re. Lui ha detto, no, no, non mi è uscito, non so ne so. Poi, padre voglio confessarti, ho un figlio mio Gio, non la sua re. Lui ha detto, padre mi benedica, ho detto, a lui mi ha detto, no, io, Dio ti benedica. Lui è con su mano, con su stigmata, perché se non si è portocato, ti va a prendersi. Questo, ho detto, padre mi benedica, lui ha detto, Dio ti benedica. Io ho il ginocchio, lì ho detto così. E poi, normalmente, ho sostituito, no, due giorni, lui e la sua camera, dalle sue parti, un vecchio colo, colo più, lo sostituito, ho stimato per queste cose. Questo è una cosa, come uno vecchio, stancato di sempre, questi giorni, stancato. Mi ha detto, mi ha detto, una cosa, poi, durante il vecchio, padre, la secresia, con i bambini, con il sorriso, come facevano, invece, al resto, improvvisamente, via, costi, costi, a parte, mi ha detto, così, e lui è sempre, a voi, sono santi, Satana, l'anima, via, questo vecchio, c'è queste cose, così. Non si può, non si può ripetere, non so, dimenticare questa passione. Ho toccato, normale, ho potuto vedere, ma lì ho toccato. Mi diventa, mi piace il mistero, mi piace, cioè, così, ma, valgo con voi, che ho smanato una cosa, cosa, no. Sono felice che ho potuto vedere queste cose, tante belle cose, queste cose, no, così santi, tante cose. Chi le aveva parlato di padre Pio? Come sapeva dell'esistenza di padre Pio? chi le ha parlato di padre pio come sa come ha conosciuto padre pio ojciec poznał ojca pio, scąd wiedział ojcu pio? di padre pio si sempre parlava la Roma no bambino voluto i pesan bambino sono trokace quella sua confezione con cardinale poi te la feste nene, ho detto no normale, no non normale questo coso sempre ma ho voluto, lui è sempre invece cosa quando da Roma va a letto, da Roma a petto a Roma padre cappella, lui ha risposto bene e io ho venito il primo volto, poi il miracolo san generaio a Napoli, da Napoli appoverduto e poi ho detto ma io ho visto qui, io ho compresione, ma una cosa, guardo santa Mesa, sonnevano un metro ho assistito, questo, il mistero del santo, il mistero del santo, il mistero del santo, il mistero del santo questo è una cosa, lui ha visto, ho visto, poi si vede, questo, finora, finora, ho toccato sempre il mistero del santo molto essere, se non sono queste cose, no, tante belle cose, grazie 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 grazie